E adesso entriamo in un momento internazionale Puntata ricca l'hai detto, puntata ricca è E ce l'ho fatta, perché abbiamo al telefono Daman, un signore indiano che è partito dall'India Dove vuole andare? Ha imbarcato la sua macchina, una macchina degli anni 50, una MG del 1950, l'ha imbarcata, l'ha portata a Dubai E da Dubai via terra sta andando a Londra e questa notte era qua a Milano No Ciao Daman Ciao Daman Ciao Daman Ciao Daman So, you ride the car from Dubai to London and you pass through the Milan this night, right? Yes, we have been driving since 15th of August All the way from India to Dubai, Iran, Turkey and then Eastern Europe And now we are in Milan Ok Allora abbiamo qui con noi la nostra Irene della regia, cioè della redazione, grazie mille Irene Che ci farà da traduttrice Allora cosa diceva adesso Daman che ha fatto il 15 di agosto, sono partiti, giusto? Esatto, sono partiti il 15 di agosto, sono arrivati a Dubai e stanno facendo questo viaggio fino a Londra passando appunto via terra Via terra But the question is one, why? 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 Why you want to make this trip? You have to be a little crazy to do something like this or you have to be very passionate like the Italians So I am very passionate for my Lal Pari, which is, you know, a red angel, literally, if you translate the name I have had this car since I was three years old and it has been part of my childhood, I got married in it So for us Lal Pari is like family Ok, l'Al Pari, sorry I got to translate L'Al Pari è la macchina che usano, non ha MG Alpari rossa, diceva cosa Irene? Che lui possiede questa macchina fino a quando aveva sei anni, bisogna essere molto, un po' pazzi per intraprendere questo viaggio Sì, oppure dice appassionati come gli italiani ha detto E appassionati come gli italiani, esatto E mi diceva poi che in questa macchina lui c'è cresciuto perché è una macchina di suo padre, giusto? E' come se si sentisse un po' sposato con questa macchina, un po' come se fosse sua moglie Ok, and now you made the trip alone or with some other people? Ah, so, no, this is part of our family and my whole family is with me So my father, my daughter, my wife and two friends We are all traveling together Because again, like Italians, we all celebrate everything with our family Ok, dice Irene, scusa Chi sta viaggiando appunto con la sua famiglia Quindi è in compagnia di suo padre, sua figlia e anche sua moglie E stanno intraprendendo questo lungo viaggio insieme Cioè tutta la famiglia quindi sta Tutta la famiglia si sta muovendo Si sta muovendo con questo lungo viaggio How old are the car? It's all the science of which year? The main car is an AMG, right? An AMG What age of construction? This is the car was manufactured in 1950 So it is a 73-year-old car It's a very small engine It's just 1.2 liter and 46 horsepower engine All right So which is the maximum speed that you can reach? 60 kilometers is the maximum 60 kilometers And in an hour And in an average we do about 35 kilometers per hour And we do about 250 kilometers per day What do you think about Milan? Yesterday evening you meet the consulate here in Milan What do you think about Milan? Since we are traveling You know we just had a very short two hour period in Milan Where we drove through It is the architecture And the people You know the architecture was very beautiful And all the people are very smartly dressed Unfortunately for us Because we are so many people You will be surprised to know That we are traveling with only three pairs of clothes So the Milanese was curious about your trip I suppose Yes because we just drove a little bit on the streets And people are very fascinated when they see a car from India With India number plate And first they think that we have shipped the car And then when we tell them that we have actually driven And they are very surprised And they are very happy To see a car like this on the road Okay, Elena diceva? Esatto Damon ci sta dicendo che Quando è arrivato a Milano È rimasto molto affascinato dalla struttura Dall'architettura proprio di Milano E che la gente si è dimostrata molto ospitale Nei loro confronti E soprattutto che sono sorpresi Di vedere una macchina indiana Appunto degli anni 50 Cosa che fa molto strano Gli anni 50, a parentesi Vi invito ad andare a vedere Dopo pubblicheremo anche delle foto Non può non balzare all'occhio È bellissima, è rossa It's a red car like a Ferrari Yes, it is And The only thing is It is one tenth or even lesser speed than a Ferrari Ho detto appunto che è rossa Come una Ferrari È l'unica cosa che è già in comune Perché va molto molto più lenta Di una Ferrari Ma la cosa più incredibile È che stanno viaggiando Con soli tre paia di vestiti Ah ecco Grazie Irene per aver trovato Faccio questa Ma di vestiti Insomma meno male ci sono Cosa dire ho fatto di peggio In campione Ho fatto di peggio You know it is It is not It is not as expensive Or as beautiful As a Ferrari But for me You know it is my Small little Ferrari It is very precious to us Diceva Irene Like any Ferrari owner Diceva che ovviamente Questa non è una Ferrari Ma per lui È la sua piccola Ferrari Daman Thanks very much For this story Thanks very much For this trip And thanks very much For pass through the Milan Yesterday night And I hope That you make The better The trip You can do Thank you so much For talking to us And sharing Our small little journey With your audience Thank you very much Thank you so much Daman